eccoci siamo di nuovo nel nostro salotto remi assolutamente sì e quindi abbiamo ancora altri ospiti come avevamo promesso nelle puntate precedenti e che ospiti voglio dire non è una cosa così scontata devo dire che tutti quelli che abbiamo interpellato finora hanno risposto in maniera incredibile al nostro invito e si sono presentati e quindi ecco a stasera abbiamo un altro sindaco è sempre di una città importantissima in ticino ma questa volta del sopra ceneri stavolta del sopra ceneri e siamo a locarno quindi abbiamo il sindaco di locarno alen scherer buonasera alen buonasera grazie per questo bellissimo salotto ecco dunque prima di andare a spulciare qualche domanda interessante e farci raccontare da alen tutta una serie di anetodi tutta una serie di cose interessanti andiamo alla sigla peter esatto la sigla allora prima di solito partiamo con delle domande tipo dove sei nato eccetera io no io parto con un'altra io ho seguito un po il tuo fb che tra l'altro dice molto perché è un fb molto completo e si riesce a vedere molto della persona però una cosa mi ha colpito c'è su tua moglie con una griglia anzi no non è una griglia è una mega griglia una grigliata con su bradwurst e costine eccetera mi sono innamorato io dico la foto è una cosa che fate spesso o si è bella prima di tutto devo dire che mia moglie è una bravissima cuoca quindi non solo la griglia ma questa è una fortuna e cucina molto sano e anche questa è una fortuna e sì la griglia è un momento di stare in compagnia con gli amici e quindi quando quando le condizioni lo permettono sono si fa sempre molto volentieri eccezionale devi vederlo perché è eccezionale ma sicuramente perché quelle cose lì e le griglie io sono affezionato anch'io siamo tutti affezionati senti tu comunque sei nato a locarno sono nato a sorengo ma però ho sempre vissuto a locarno cioè sei solo nato a sorengo questo è inusuale uno di lugano d'accordo nasce a sorengo perché per questione di comodità no però uno di locarno che nasce a sorengo non è proprio normale non è proprio normale veramente perché cambicità per certamente per nascere anche qui da noi per esempio qui nessuno nasce in riviera perché non abbiamo l'ospedale vabbè in riviera non avete l'ospedale ho capito ma locarno l'ospedale c'è capissimo no dunque sei nato sei nato a sorengo mi dici però sei di locarno locarno quindi la tua città sì da sempre da sempre e ti vedo anche molto soddisfatto quando ne parli sì perché io sono veramente innamorato della mia città perché siamo fortunati è una zona stupenda e con un grandissimo potenziale ed è bellissimo viverci è bellissimo avere la propria famiglia il proprio bimbo che cresce in questa questa città io sono molto affezionato che tu sei è una cosa strana anche questa la moglie no è di Luga è una pepe no ho capito ma sono delle cose che comunque attirano l'attenzione abbiamo capito che Alain è sposato abbiamo capito che anche un figlio se parlo della moglie ovviamente è sposato quanti anni hai figlio? figlio Mattia fa i dieci anni ad agosto quindi fa le elementari a Locarno? quarto elementare a Locarno Monti dove viviamo è un bravissimo bambino è appassionato di calcio ecco gli è trasmesso anche il mio tifo per il Milan poverino abbiamo un poverino perché non è che gioca una volta per caso no non gioca in porta gioca gli piace molto Teo Hernandez quindi gioca da torsino sulla fascia spingere un po' su idolo in questo momento dopo ho letto che per esempio tua moglie ha un soprannome molto divertente Muschi Muschi è la Prisca d'Indo che la chiamava così tra l'altro ricordiamolo è la moglie di tutto Rossi allora colghiamo l'occasione per salutare la moglie di Alain esatto Prisca e anche tutto Rossi esatto salutiamo tutti salutiamo tutti con piacere senti il bambino anche perché se non salutiamo il ragazzo hai ragione senti Alain in centro Locarno quando tu devi spostarti per le tue attività di sindaco o comunque per politica ti sposti con la bicicletta hai la bicicletta elettrica sposti con la macchina mi sposto con la macchina perché abitando in collina purtroppo fino a poche settimane fa il collegamento con il trasporto pubblico non era ideale nel senso che passava soltanto un bus ogni ora ora col potenziamento che c'è stato la situazione è migliorata il numero di passaggi è duplicato e quindi questo potrebbe cambiare un po di cose sicuramente vorrei anche sfruttare la bicicletta ma in questo non essendo proprio lo sportivone per eccellenza ho acquistato una bicicletta elettrica che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni bene molto bene è un ottimo compromesso fra la bicicletta e la macchina l'elettrica è ideale certo poi Locarno è bellissima cosa è qualcosa di fantastico veramente anche io ci vado molto spesso è veramente bella e senti so che avete un problema che interessa comunque anche il municipio indirettamente che è quello della navigazione mi sai dire qualcosa in più adesso o sono ancora fermi al palo? La situazione è davvero complicata perché dipendiamo molto dall'accordo internazionale con gli italiani quindi è davvero difficile riuscire ad uscire da questa situazione ci stiamo impegnando ma dipende anche da molti fattori che appunto sono condizionati all'Italia gli italiani e il fatto che spesso sia cambiato il governo in Italia in questi anni non ha aiutato le trattative non è facile non invidio assolutamente la società di navigazione perché le condizioni in cui muoversi sono davvero molto complicate e dobbiamo comunque noi come comuni come regione siamo compatti nel cercare di dare un aiuto perché il lago ha un potenziale straordinario e chi non è stato sfruttato nel corso degli anni noi vorremmo offrire molto di più dal punto di vista turistico dal punto di vista dei passaggi anche per i nostri cittadini ma tutto questo appunto in un contesto così difficile non è evidente riuscire a trovare una soluzione però sono ottimista di natura e sono convinto che arriveremo. Ma la società italiana è responsabile per tutto il bacino o solo per la parte italiana del bacino? Per tutto il bacino. Anche la parte svizzera? Anche la parte svizzera ed è questo che rende complicata la cosa. Ho capito. Premi? Io prima di andare ancora a trattare altre trattande diciamo economiche e politiche tornerei ancora su Alain, quindi tu hai studiato, hai cominciato a studiare a Locano presumo le scuole infanzi, elementari e poi? Allora la prima elementare facendo proprio partendo dall'inizio, la prima elementare nelle scuole dove adesso è sorto il palacinema. Poi ci siamo trasferiti a Locarno Monti, gli avevo sette anni e quindi la seconda e la terza le ho fatte a Locarno Monti. Dopo, non essendoci la possibilità di fare la quarta a Locarno Monti, si è scesi al piano ai Salegi, gli ho fatto la quarta alla quinta, dopo il collegio Papio gli ho fatto il ginnasio, allora si chiamava il ginnasio, il liceo e dopo il Politecnico a Zurigo. Ah ok, quindi il Politecnico cos'hai studiato? Ho studiato elettrotecnica, quindi qualche elettricista qui dentro c'è. Si, si, se abbiamo bisogno sappiamo dove rivolgere. Bene, ottimo. Senti, Montebre sopra a Locarno c'è una bella storia di un principe, eccetera, no? A che punto è quella storia lì? Perché poi a un certo punto si è fermato tutto e… Premetto che il principe io non l'ho mai conosciuto, se non di fama, ma di persona non ho mai avuto occasione di incontrarlo. Questa storia ha avuto uno sviluppo un po' quasi da telenovela, mi viene da dire, perché partendo proprio dall'inizio diciamo io un giorno entrando in municipio un collega del municipio mi ha avvicinato e mi ha detto guarda che ho incontrato un architetto che mi ha chiesto la tua disponibilità a entrare in una giuria per un hotel a Montebre. Si parla hotel, semplicemente hotel. E io ho detto ma che bella cosa perché il quartiere di Bre è stupendo ma purtroppo si sta spegnendo non essendoci più un hotel, non essendoci più un punto vero d'incontro per la popolazione è bello che qualcuno voglia riattivare, costruire con un hotel, un ristorante e quindi mi metto volentieri a disposizione. Però era così, senza nessuna base, senza nessuna documentazione, proprio così un'adesione di principio. Ma non ho più sentito niente. A un certo punto, credo che fosse passato un anno da quel momento, ricordo che ero in vacanza e a Montebre, l'associazione Montebre aveva organizzato la propria assemblea e io essendo assente, è andato il vice sindaco, ha partecipato a lui e mi chiama e mi fa ma lo sai che c'è qui un dépliant con un mega resort e una giuria di cui fai parte tu, il presidente di Ticino Turismo Rampazzi e altri personaggi. Io non ne sapevo di niente, non sapevo l'esistenza di un progetto di Maxi Resort, non sapevo di essere stato omesso in una pubblicazione che appunto promuoveva questo tipo di investimento e non vedendoci chiaro ho immediatamente chiesto al segretario comunale di preparare una lettera e di inviare ai promotori dicendo avete utilizzato il mio nome senza il mio consenso e li proibivo di farlo ancora in futuro. Poi ecco da questo è stato proprio l'inizio che non è stata proprio un'entrata in materia del migliore. Il progetto se ne è parlato tanto senza che arrivasse in municipio una domanda di costruzione quindi era anche difficile sia per il sindaco che per tutti i municipali prendere posizione perché non si sapeva bene di cosa si stesse parlando. Si discuteva un po' sulla base di questo dépliant, su altre informazioni che si erano raccolte dalla popolazione, ma era chiaro che da parte degli investitori una cosa era mancata in modo clamorosa ed è la comunicazione e il convolgimento di chi è sul territorio. Quindi gli investitori sono partiti con questa idea a mio avviso sproporzionata per quella che era la realtà di Montebrè, non solo dell'albergo, per carità che quello ci stava benissimo il ristorante, ma anche tutta una serie di appartamenti, di lusso, si parlava anche di un eliporto addirittura. Quando non c'è una documentazione chiara su cui discutere, dopo si crea si ma parte anche la fantasia di tutto e di più, è chiaro che in un contesto di questo genere si reagisce anche di pancia e la popolazione giustamente che ha a cuore la nostra montagna ha cominciato a raccogliere tutta una serie di firme per poter cambiare il piano regolatore. Piano regolatore che noi non toccavamo da diversi anni, anche perché a Montebrè devo dire in dieci anni ci saranno state cinque costruzioni, cinque modernizzazioni, due costruzioni, c'è stato veramente poco fermento edilizio, quindi nessuno si aspettava una cosa del genere. Perciò la popolazione giustamente prendendo a cuore la nostra montagna ha raccolto tutta una serie di firme per intervenire, cosa che comunque noi stavamo già valutando come Municipio, quindi ci hanno un po' in questo senso anticipato. Una volta ricevute queste firme abbiamo trasmesso tutto, in questo tipo di iniziativa diventa tutto competenza poi della Commissione, del piano regolatore e del consiglio comunale, però dato che la Commissione non ha un proprio budget, non ha degli specialisti e ci vuole tempo, noi come Municipio, dato che l'interesse comunque è comune, abbiamo messo a disposizione un pianificatore per fare una prima analisi del potenziale edificatorio del piano regolatore di Montebrè e questa è stata trasmessa poi in seguito dal Consiglio comunale, alla Commissione che ci sta ragionando sopra. Però l'obiettivo all'interno del Municipio è condiviso, nel senso che vogliamo, vorremmo uno sviluppo della montagna di Montebrè, nel senso che torni a esserci qualcosa che possa essere un punto d'incontro per la popolazione e portare vita in questo quartiere, però deve essere assolutamente proporzionato a quella che è la realtà, non elicotteri che atterrano… Conservando un po' quello che attualmente c'è e mantenendo un certo ordine… Esattamente, perché la zona è bella può diventare ancora più bella, ma deve esserlo nei termini che il territorio permette. Ricordiamo che anche la strada per arrivare fino a Montebrè non è proprio delle più facili, quindi il traffico deve essere moderato su questo percorso. Bene, è una tematica difficile dunque, sia per il comune di Locano, presumo anche per la popolazione coinvolta direttamente, quindi è difficile. Quando c'è il difficile, Pedro, cosa facciamo qui? Andiamo al facile! Andiamo al facile! Esatto! Alen, tu prima di fare il sindaco di Locarno che cosa hai fatto? Qual è stata un po' la tua professione che hai esercitato? Hai fatto sempre politica? Quando è che nasce anche la tua passione per la politica? Allora, io sinceramente di politica non mi sono mai interessato fino al termine degli studi, proprio zero! Come quasi tutti i giovani! Finiti gli studi ho avuto subito la fortuna di trovare un contratto alla Schindler di Locarno, che mi ha dato una bella opportunità, dato che lì ho avuto 7-8 anni di lavoro, iniziando proprio all'inizio come ingegnere elettrotecnico, quindi specializzato sui componenti elettrici e elettronici, per poi passare alla conduzione di progetti, che è la cosa che mi piace di più fare, il project manager, il program manager. Mi è stato affidato una linea di ascensori che era ai tempi rivoluzionari e innovativa, dato che si inseriva la manovra dell'ascensore nel vano dell'ascensore, non necessitava più una sala macchine nuova, ma poteva essere… Sicuramente la manovra! Mi ricordo che era la fine degli anni 90, dovevamo arrivare sul mercato prima della concorrenza, quindi c'era una forte spinta, tutta la Schindler, tutto il gruppo era concentrato e poneva le proprie forze su questo progetto, e siamo riusciti ad arrivare sul mercato con un prodotto di cui sono ancora orgoglioso adesso, a tanti anni di distanza, con tutto il team, per carità, non è mica merito mio, ma di tutto il team, e questa è stata una bellissima avventura. Poi dopo l'avventura nell'industria privata ho avuto l'occasione, a seguito della riorganizzazione del centro sistemi informativi, di passare allo Stato, quindi nell'amministrazione pubblica… A Bellinzona dunque… A Bellinzona dunque… Il centro sistemi informativi si è riorganizzato, è stata creata un'area nuova che era quella dei servizi di consulenza, ed era una posizione che mi stuzzicava molto, perché si trattava di andare dagli utenti all'interno dell'amministrazione a cercare di capire i loro bisogni dal punto di vista informatico, e tradurli in uno studio di fattibilità, analizzando le varie possibilità, i calcoli di ritorno di investimento, eccetera, eccetera. Da lì poi, all'interno del CSI, del centro sistemi informativi, sono passato più nella parte amministrativa finanziaria, quindi sono diventato vice direttore in un team di direzione che è molto bello, mi piace molto lavorare al CSI perché la direzione è collegiale, cioè c'è un direttore evidentemente che si porta le responsabilità, ma ci sono anche cinque vice direttori che collaborano e condividono un po' tutta quella che è la strategia. È un bel lavoro, un bel mestiere che amo molto. Preto parecchio anche vedo, è dal 99 al 2015? Dal 99 al 2015… Ancora oggi, dal 99 al 2020 io lavoro ancora lì. E poi c'è la carriera politica, sì è giusto perché la domanda iniziale è come ti sei interessata la politica. La politica, ecco proprio mi ricordo mio papà era molto attivo, non nella politica, ma per la società per il Locarnese. Lui nell'ambito del turismo, insieme a mia mamma, aveva molta iniziativa, aveva molto coraggio anche devo dire. Io vedendo lui proporre tanto per la nostra regione, mi sono detto mi piacerebbe, mi piacerebbe aiutare, fare qualcosa per Locarno, qualcosa di utile. E così io tramite un amico, Fabio Abate, con cui condiviamo la passione per una squadra calcistica che è il Milan, e a quel tempo lui era nel comitato del Milan Club, ci incontravamo abbastanza spesso. E gli ho detto, senti Fabio a me piacerebbe interessarmi un po' di politica e vorrei fare qualcosa di modo attivo. Fabio mi ha detto, ci penso io, ti metto in contatto con la Presidente della sezione PLR di Locarno, che era ai tempi Elena Zaccheo, che è una mia carissima amica, però ai tempi non la conoscevo ancora. E' stata lei introdurmi nel mondo della politica, prima con i giovani, poi dandomi fiducia nella lista del Consiglio Comunale, dove sono entrato subito, sono diventato anche capogruppo, metà legislatura. E poi la legislatura successiva, sono entrato in municipio, era il 2004, ho fatto 8 anni di finanze, poi 3 anni di sicurezza e cultura, e poi con l'uscita di Carla, la grande maestra Carla, ho avuto la possibilità di diventare sindaco. Ecco Peter, step by step, piano piano, ma con una certa sicurezza, una certa serenità. Esatto, sì, ottimo. Quindi non si può non parlare di Locarno menzionando il Festival del Film, ovviamente perché è una cosa che è indelebile fra le due realtà, no? Quindi cos'è il Film Festival per Locarno? Cosa vuol dire per Locarno il Film Festival? Il Film Festival è il gioiello di Locarno, nel senso che se Locarno è conosciuta internazionalmente è proprio grazie a questo Festival del Film. Un Festival del Film che è davvero cresciuto negli anni, è diventato sempre più importante e io ricordo che quando mi recavo all'estero e mi chiedevano da dove vieni? Dalla Svizzera, come parli bene l'italiano prima cosa che ti dicono, guarda che c'è il canton ticino in cui la lingua italiana è insomma la nostra lingua madre. E poi dicevo da Locarno, a Lugano? No, Locarno. E ogni volta dovevo difendere la nostra povera Locarno. Da qualche anno è cambiato, quando dico da Locarno mi dicono, ah, dove c'è il Festival del Film? L'orgoglio da Locarno salta fuori. Quindi Locarno, la città di Locarno e il Festival sono veramente un tutt'uno, perché è il momento in cui la città si trasforma, prima di tutto, perché diventa davvero bellissima da vivere per l'appassionato del cinema, prima di tutto, ma anche per chi viene semplicemente a visitarla e vuole divertirsi, perché diventa tutta una festa, è tutto differente. Ed è l'occasione appunto di fare anche cultura, perché ricordiamoci che il Festival del Film porta comunque, porta principalmente cultura, oltre al turismo. Ed è un festival che ha un'identità molto libera, una scelta, io ho sempre ammirato da parte del Presidente, grandissimo uomo Marco Solari, la capacità di lasciare la libertà artistica ai propri direttori, di non interferire mai in queste scelte. È una scelta coraggiosa, perché poi se qualcuno non la sa utilizzare bene, questa libertà può essere pericolosa, però è sempre stata ben ripagata dai direttori in questi anni e abbiamo avuto un festival che è conosciuto sì, come dicevo, dal punto di vista dell'immagine e del turismo, ma ha anche un'identità culturale molto forte che noi difendiamo veramente con orgoglio. È che bisogna dire una cosa del Film Festival, la sua grande forza è la piazza, nel senso che è quello che attira. Adesso con questa storia della pandemia ovviamente avete dovuto fare un anno praticamente online, perché non si poteva fare nulla. Contate quest'anno di arrivarci, perché vedo che comunque state lavorando in quella direzione, di farlo all'aperto quindi. Assolutamente sì, la piazza grande è un elemento fondamentale, l'hai detto bene, per il Festival del Film. Quello che abbiamo vissuto l'anno scorso è stata un'eccezionalità purtroppo dettata dalla situazione evidentemente. Noi stiamo lavorando per avere un festival che possa avere anche i suoi momenti in piazza grande, poi dovremo capire in che dimensione, nel senso saranno poi le disposizioni sanitarie, a dirci quante persone potranno essere in piazza, a che condizioni, e cercheremo di seguire, cioè dovremo seguire quelle che saranno disposizioni che ci verranno date. Però l'obiettivo è proprio di avere questo momento in piazza, perché è troppo simbolica per il festival e per tutto chi lo frequenta. Io ho sempre negli occhi l'emozione che hanno attori anche famosi, che hanno una carriera internazionale straordinaria, il momento in cui salgono su quel palco, guardano verso la piazza e vedo proprio, manca il fiato, sono emozionatissimi. E quindi questo è un valore che dobbiamo tenere. Attori del tipo di Sarandon per esempio, ma anche altri, parliamo di star hollywoodiane, non stiamo parlando di… E Locarno insieme al film festival, non ha solo il film festival, ha delle cose secondo me assolutamente fantastiche, una di queste è Moon and Stars. E non solo, l'inverno ha la pista di ghiaccio, ha delle cose che sono probabilmente uniche in Ticino. Sì, abbiamo Moon and Stars, è il secondo momento internazionale per la nostra città, perché è una manifestazione musicale che ormai è da quasi vent'anni, mi sembra, che si svolge sul nostro territorio, nella nostra piazza grande ed è anche questa cresciuta negli anni, nel senso che abbiamo da qualche anno a questa parte anche la parte più di divertimento, diciamo, esterna al festival. Quindi non è solo un'esperienza del concerto in piazza grande, ma vi è tutta una serie di divertimenti su Largo Zorzi, un palco su cui si possono esibire band locali gratuitamente ed è un momento, anche questo, importantissimo per la nostra città. Poi c'è la Locarno Nice, che noi siamo stati i primi ad avere, grazie all'associazione Locarno Nice, questa pista di ghiaccio in pieno centro, siamo stati poi da esempio per tanti altri comuni che hanno cercato di seguire, ma noi abbiamo la fortuna di avere una cornice che nessun altro ha. Assolutamente, poi non è solo la pista di ghiaccio, ma è proprio l'intera piazza, stili di glù, trasparenti, eccetera, è veramente una cosa. E poi abbiamo altri eventi, cerchiamo di far crescere sempre di più questa serie di eventi importanti, miriamo sulla qualità, c'è City of Guitars ad esempio, che giunge a fine stagione estiva, quindi a settembre, che ha uno spirito diverso da quello che è Moon and Star, perché i cantanti, i musicisti, i chitarristi che si esibiscono, non fanno solo la loro esibizione, ma si mettono proprio anche a disposizione del pubblico. Quindi in momenti come il palco sofà, in cui si fanno intervistare, o in momenti in cui hanno dei clinic, mi sembra che si chiamino, in cui sono a disposizione per le domande e raccontano un po' di tecnica di chitarra o della propria esperienza musicale. Ed è una manifestazione di cui ringrazio veramente di cuore gli organizzatori per i sacrifici che fanno, perché oltre a essere questo spirito bellissimo, innovativo, è gratuita, e quindi è qualcosa a disposizione di tutti e io quando vedo così tanti sorrisi in Piazza Grande mi si allarga il cuore. Devo dire, Remy, che mi ha dato lo spunto adesso, parlando di gratuito, io ho notato che Locarno è probabilmente, da quello che mi ricordo io, è l'unica città che d'inverno, d'inverno relativamente, da ottobre ad aprile, ha dei posteggi gratuiti in città, perché se andiamo verso, diciamo seguendo il lago, fino ad arrivare al Lido e passando il Lido, appena dopo il Lido, d'inverno si può mettere la macchina gratuitamente. È una cosa abbastanza anomala. Devo dire che però stiamo, anche per questioni finanziarie, stanno valutando, stiamo proprio chiedendosi di... Di farlo a pagamento anche quello? Perché... Era da tu, secondo me? Ce ne sono ancora, per carità, però adesso stiamo vedendo un po' in generale per tutta la città, quelle che sono le zone, tempo di sosta, le tariffe, eccetera. Ma questo purtroppo è un po'... Bene, Alen, allora adesso andiamo a una domanda molto facile, pesce o carne? Pesce. Pesce, cioè senza esitazioni? Sì. E dunque mangrado la griglia di tuo amore. Mangrado la griglia. Sono anche carnivore, per carità, però il pesce lo adoro. Lo adori? Sì. Il tuo viaggio più lungo? Il mio viaggio più lungo? Stati Uniti, Stati Uniti, la Route 66. Bene. A me gli Stati Uniti... Siamo i due, l'ho fatto anche io. Anche tu? A me gli Stati Uniti piacciono molto, mi piace molto il paesaggio, un po' meno la società americana, ecco, ma questo è un altro discorso. Però i costi per far vacanza sono straordinari. Sì, ho fatto, appena finiti gli studi, ho voluto andare a studiare l'inglese, ho fatto tre mesi a Miami, e quindi ho conosciuto questa costa. Poi la vacanza successiva, con un carissimo amico, siamo stati sulla costa ovest e abbiamo girato i parchi nazionali. Ci sono delle meraviglie. Ah, sì, è una cosa... Le paesaggi straordinarie, delle dimensioni che... Troppo è solo la meraviglia. E poi la vacanza successiva, sempre in America, senza mia moglie, perché non la conoscevo ancora, con gli amici, abbiamo fatto la Route 66, è stato anche... Eccezionale, veramente. Sì, sì, sì. Ma a me piace molto girare, in generale ti piace molto viaggiare, mia moglie ancora di più, se fosse per lei sarebbe ogni giorno con la valigia pronta. Dove andiamo? Infatti, dove andate quest'anno? Quest'anno dipenderà... Dipenderà ancora da... Sì, certo. Ma si può partire anche d'inverno, dovendolo spostare, voglio dire, ci sono dei posti dove si può andare anche d'inverno. Quindi non credo che quello debba essere... E viaggiare con l'aereo, quindi non è un problema. Viaggiare con l'aereo col piccolo non l'abbiamo ancora fatto, quindi ecco, negli ultimi dieci anni con l'aereo non abbiamo... non possiamo mai viaggiare. A me piacerebbe moltissimo l'Australia. Quella è un sogno... Te lo consiglio. Davvero, sì. Mi darei qualche dritto. Tu hai fatto tutti... Sì, sei andato negli Stati Uniti, in Australia... Sì, io ho fatto diverse cose, ho fatto l'Asia, l'unico continente che non ho fatto è l'Africa. Ecco. Però dall'Asia alle Americhe, all'Australia... Le ho fatte tutte, sì. Bene, bene. Allora, Alain, a un certo punto arriviamo, quindi, circa la metà, dopo la metà della trasmissione, e così, di punto in bianco, chiediamo all'ospite di raccontarci una barceletta. Una barceletta. E' questa un po' la reazione di tutti... Sto filtrando quelle che non sono volgarie. Al limite tagliamo, Peter. Sì, al limite tagliamo, ma certo. Allora, aspetta. Una... Sì? Una noce. Ah, ecco, voilà. Grande, Alain. Allora, c'è un gorilla nella foresta che sta fumando. Sta fumando uno spinello. E' lì, poggiato a una pianta. E da parte arriva una lucertola. Ciao, ciao gorilla, cosa stai facendo? Sto fumando, non si vede? o cosa stai fumando? Lo spinello. Lo spinello? E non ho mai fumato uno spinello. Ma, ma me lo fai provare, me lo fai provare. Ma sei pazza. Ma se, ma se, se tu fumi uno spinello, ma muori. No, no, non te lo do. Dai, fammi provare, fammi provare, fammi provare. Ma sì, dai, però tira piano, perché se no stai male. Mi brucia la gola, mi brucia la gola, mi brucia la gola. Eh, te l'avevo detto io. Ah no, vado a bere qualcosa. Vai, vai a bere qualcosa. Gorilla resta lì e si fuga. Sto spingendo. Tranquillo ancora. Si distrae. Mentre la lucertola va al primo corso d'acqua, va, comincia a bere. mentre lì che beve arriva un cocodrillo. Il cocodrillo esce a fare. Ciao lucertola, cosa stai facendo? Sto bevendo. Ma perché stai bevendo? Perché, perché il gorilla, l'orango, mi ha dato, mi ha dato uno spinello da fine. Uno spinello? Qui? Ma vado io a dirgli qualcosa adesso? Il cocodrillo esce dalla Gorilla. Gorilla ancora distratto. Così. Fa. Gorilla. Gorilla si volta e si fa. Ma quant'è ha qui è venuto? Allora non c'è. Ma che è successo? Bestiale. Bella questa. Allora l'ho raccontata bene. No, no, no. Non solo l'hai raccontata molto bene. Ma sei stato l'unico a raccontare una barzelletta? Non è vero. Ma davvero? Cioè siamo veramente forse due. Il successo oramai è garantito. Guarda, l'unico punto che non siamo mai riusciti era questo. Adesso l'abbiamo avuta la barzelletta. Barzellette piace tantissimo raccontarle ma purtroppo il 90% non si può suddivare davanti a questa regola. Ma quello tutte le barzellette in fondo non è che... Senti, grazie a lei. Grazie. Senti, il tuo piatto preferito. Il mio piatto preferito ma sono tanti perché io sono una buona forchetta. Non si direbbe a dire la verità. ma piace molto il salmone, piace molto appunto il pesce. Pesce, sì. Polipo con le patate è uno dei preferiti. Polipo con le patate. Ecco, cose così non... Non vi stuzzicano? Siete più carnivori? Non è che non stuzzica. Non c'è stato mai nessuno che ha fatto questa... Davvero? No, Ma questa è proprio una cosa nuova. Altri gusti. Altri gusti. Sì, sì. Alen, dunque l'affinità artistica tua si è dimostrata anche stasera insomma, no? Con la barzelletta. Vascogem. Mi illumino. La Vascogem è il mio momento di sfogo, di star bene con gli amici, di star bene con chi ci ascolta, con chi canta assieme a noi ed è proprio è una parte di me nel senso che come a un qualcuno può piacere star bene andando a fare un giro in bicicletta una partita a tennis ecco per me è una valvola di sfogo ma come nasce il progetto come nasce l'idea? Allora la Vascogem è nata nel 1984 penso che sia la cover band di Vasco Rossi più longeva in assoluto malgrado che in Italia ve ne siano affine decine e decine e io l'ho seguita come fan perché è del locarnese era molto conosciuta c'era il cantante Ivan Magidi che salutiamo grande Ivan che ha cantato appunto con la Vascogem per 19 anni poi ha deciso di lasciare e dato che tutti i componenti della band comunque erano miei amici ho detto dai fatemi provare fatemi provare non ho mai cantato non ho mai preso una lezione di canto in vita mia mi hanno detto aspetta prima dobbiamo provarne un altro abbiamo provato uno che era bravissimo ma non aveva la voce simile a Vasco era più da heavy metal ecco con le voci alte straordinarie non ho un'estensione vocale di questo tipo e quindi l'hanno fatto un concerto con lui ma non è non è non è nato il feeling si vede non lo so comunque vabbè erano ancora alla ricerca di un cantante mi fate provare dai fatemi provare e così sono dato alla prima prova dato che sono fan di Vasco Rossi da sempre ma sono fan della musica italiana e del rock italiano in generale del rock più oltre che il rock italiano ma della musica a 360 gradi diciamo mi piace un po' tutto però le canzoni di Vasco le conosco tutte e quindi ecco ho provato la prima prova c'era chi era più convinto nella band chi era meno convinto e per fortuna quelli più convinti mi hanno detto dai dai insistiamo un po' facciamogli provare ancora una qualche volta diverse volte e così ecco dopo mi sembra sei mesi di prove siamo usciti in concerto la prima volta era 2003 e da lì via penso è incredibile è così funziona lui è bravissimo assolutamente io non faccio non faccio limitazioni ci sono molti che molti cantanti di cover band che fanno proprio l'imitazione alla Vasco che ti parlano anche sai come parlava il capitolo ecco io non lo faccio perché rischi di diventare un po' grottesco è vero io preferisco cantare con la mia voce interpretandoli vivendo le canzoni come se le avessi scritte io esatto perché a me proprio avendo seguito Vasco Rossi dall'inizio della sua carriera ogni sua canzone mi ricorda un momento della mia vita in cui quella canzone significava qualcosa e perciò quando la canto è come se tornassi a quel momento e la vivo in quel senso cerco di trasmettere la mia emozione a chi chi è nel pubblico allora un ingegnere elettrotecnico dunque hai studiato al Politecnico che è insomma mica facile ma a scuola quando all'alimentare eri bravo eri bravino eri il secchione della classe quelli che ero molto timido molto sì penso che ero un allievo attento a scuola quello sicuramente perché ricordo che studiavo poco a casa perché stavo molto attento in classe poi dopo quando sono arrivato al Poli mi sono accorto che non bastava stare a dentro il primo anno non è andato proprio bene prima hanno bocciato anche perché devo dire oltre alle lezioni penso che non ho mancato una festa a Zurigo di tutte quelle che questo non ha forse aiutato nel momento di studio magari qualche festino almeno però ecco diciamo che la prima legnata dopo il primo anno mi ha fatto capire che forse era meglio concentrare più sullo studio e un po' meno sul divertimento anche dopo la scuola ma anche dopo la presenza pur divertendosi sempre perché comunque quando si è in una città universitaria è bello viverla poi specialmente Zurigo insomma fa mai essere molto bello c'era qualche ticinesia l'hai trucco a studiare assieme ti ricordi qualcuno hai qualche contatto ancora hai mantenuto ancora qualche rapporto sono sì con alcuni di loro sì è vero che però ci siamo un po' persi è chiaro dopo il lavoro invece quelli che sono restati proprio gli amici del cuore ancora oggi che frequento ancora oggi sono quelli del collegio papio degli attuali del collegio papio sì abbiamo un gruppo proprio molto affiatato e ci ritroviamo adesso un po' meno ma è perché sono tutti locali ma cerchiamo di trovarci regolarmente per delle cene sono dei momenti molto goliardici molto molto simpatici e se non avresti fatto l'ingegnere elettrotecnico che cosa avresti fatto quale sarebbe stato avevi un sogno prima ancora quando eri piccolo o era questo il sogno di diventare ingegnere elettrotecnico allora se uno potesse pensare alla propria vita senza ragionare su tutti quelli che sono comunque le necessità che devi avere per avere una famiglia per avere una certa sicurezza finanziaria eccetera ma potessi proprio sogna ecco io avrei fatto l'attore di teatro mi sarebbe piaciuto tantissimo fare l'attore e girare il mondo chissà perché non sono meravigliato però voglio dire dopo la tua entrata in merito alla barzelletta adesso arriva la mia che è una domanda un po' più seria se vogliamo tu pensi che siamo ancora liberi? come persone cioè libertà di espressione libertà di comportamento o non siamo più così liberi come lo eravamo una volta? beh una domanda di questo genere in un momento come quello che stiamo vivendo adesso mi viene proprio da dire no non siamo più liberi perché abbiamo tutta una serie di obblighi di restrizioni che ci vengono date per le disposizioni sanitarie però ragionando in termini un po' più ampi io penso che siamo fortunati comunque di vivere in una nazione in cui fondamentalmente siamo liberi siamo liberi come esseri umani siamo liberi abbiamo una libertà di espressione che purtroppo in molte parti del mondo è negata ci sono delle realtà nel globo terrestre che sono davvero difficili e tristi noi siamo fortunati abbiamo se posso riallacciarmi allora una canzone di Vasco Rossi però ho visto che l'abbiamo parlato prima c'è una canzone che si chiama proprio Liberi liberi in cui si ricorda io la dedico quando la canto la dedico sempre alle persone che hanno superato i 40 anni perché noi nasciamo tutti liberi e poi la società ci dà dei vincoli delle regole che limitano questa nostra libertà evidentemente ma anche in modo corretto però fondamentalmente ci resta questo spirito libero che lo spirito la libertà è quella che poi ci fa prendere anche delle decisioni con coraggio che ci fa sognare e più cresci più entri nei meccanismi della società adesso forse sono un po' retorico mentre lo dico più dimentichi questa libertà e viene un po' come dire inscatolato in certi pensieri e questo è una cosa che alla fine ci facciamo da soli perché noi abbiamo dentro di noi lo spirito per avere il coraggio delle nostre azioni di cercare di sognare e quello che dobbiamo avere tutti nella politica è importante sognare perché quando realizzi qualcosa devi prima averlo sognato e questo ti nasce solo da una forza che hai dentro che secondo me è legata al senso di libertà forse il discorso è un po' è molto ampio però è quello che sento io noi quindi siamo malgrado la situazione in cui stiamo vivendo siamo fortunati a vivere in una nazione che ti può dare questa libertà sta a noi ricordarcelo che siamo liberi arrivano le comunali sei nervoso io le campagne elettorali guarda proprio non mi piacciono non mi piacciono perché devi andare in giro a promuoverti io sono in un periodo come questo io io sono me stesso sempre e e e e quindi penso che le persone ti conoscono per quello che sei e non devi prenderle in giro devi cercare di essere sempre te stesso e perciò c'è chi se sei coerente e io spero di esserlo ho cercato sempre di esserlo nel mio essere se sei coerente la gente poi ti conosce per quello che sei e quindi o ti apprezza o non non gli piace insomma e poi sarà il voto popolare a deciderlo io sento intorno a me tanta tanta simpatia ecco perché a me piace stare in mezzo alla gente mi piace parlare io dico sempre che la cosa più bella di un sindaco del mestiere del sindaco è poter imparare ogni giorno dai propri cittadini ogni volta che parli con uno di loro hai qualcosa della sua vita che 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 entra dentro di te e e ti dà qualcosa ti arricchisce ti fa star bene ti fa anche preoccupare quando sono delle preoccupazioni che ti vengono raccontate e una partecipazione questo senso di comunità questo questo senso di appartenenza a tutta la cittadinanza mi fa star bene mi fa sentire che si mi vogliono bene a Lugano io cerco di essere il sindaco di tutti non non ho mai pensato a diversamente e questo botte se sarà premiato con le prossime elezioni lo vedremo se non sarà premiato si vede che sono stufi di me dal punto di vista del tempo non hai problemi cioè voglio dire la gestione funziona abbastanza bene la gestione funziona bene perché ho una moglie assolutamente complessibile comprensiva complice in quello che è la mia vita quindi mi lascia tutta la libertà e questo è importantissimo le sono davvero tanto grato e ho anche un datore di lavoro che pure mi lascia questa libertà io ho ridotto la mia percentuale lavorativa al centro del sistema di informativa altrimenti sarebbe impossibile fare anche il sindaco e questo in orari che veramente mi facilitano mi facilitano il spostamento da Bellinson a Locarno ecco facendo questo devo essere molto ben organizzato perché gli appuntamenti a Locarno devono essere concentrati in determinati giorni in maniera di poter convivere tutte queste realtà funziona vuol dire che funziona bene funziona ma quando c'è l'entusiasmo quando c'è l'amore in quello che fai non ti peserà mai niente non sarebbe mai stancho funzionerà sempre magari a 40 anni no dici ma non lo so io la stanchezza la sento eh vabbè chiaro che eh beh no ma è vero senza scherzi cioè un po' a 40 anni a 40 anni io giocavo pure al calcio eh esgano 64 che sono lì i senti davvero li senti poi possono così venire i dottori a dieti omo sui sotto 46 giui eh sì però però li senti ma è normale ma è fisiologico il discorso senti Ale oramai siamo quasi alla fine siamo praticamente siamo quasi alla fine ti sei trovato bene con noi? benissimo benissimo ci fa piacere è come stare in famiglia perché sei qua proprio molto è quello che cerchiamo di far passare vogliamo fare la chiacchierata è bello è bella e da probabilmente anche la possibilità a chi sta seduto in quella poltrona che non è sempre comoda di esprimere anche delle realtà che lui sente che lui capisce eccetera a noi ha fatto piacere comunque averti qua anche a me tantissimo mi avete proprio fatto star bene mi avete fatto delle domande che non mi sono mai state fatte e mi avete dato l'occasione anche di dire cose che che solitamente non dico e quindi è stato bello è stato piacevole spero che anche chi ha seguito su questo non ho dubbio su questo non ho dubbio è quindi doppiamente interessante è piacevole la chiacchierata con il sindaco di Locarno Alan Scherer che ovviamente anche noi ringraziamo di cuore per aver messo a disposizione il suo tempo il tuo tempo prezioso preziosissimo perché tutti impegni poi adesso siamo anche sotto campagna quindi l'intensità è ancora più anche se siamo quasi sotto pandemia ma l'intensità dei lavori di incontri è ancora più alta veramente grazie Peter se vuoi concludere se vuoi dire due parole sì beh non c'è molto da dire ringrazio anche io ovviamente Alan per questa disponibilità che ci ha dimostrato e ai telespettatori dico seguiteci seguiteci sempre noi daremo sempre il meglio di noi stessi per porvi dei personaggi e delle persone che hanno qualcosa da raccontare di importante e quindi così è stata questa volta e sarà le prossime spero assolutamente ringrazio tutti quanti per aver seguito anche questa trasmissione per seguire questa trasmissione e buona serata a tutti buona serata 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 Grazie.